Fine settimana dedicato ai mercati della terra con sinergia tra i tre comuni di Fondovale nel Valdarno Aretino per celebrare la giornata mondiale su questo tema ed appunto anche il livello degli eventi internazionali e coinvolgerà le location tradizionali di Montevarchi, San Giovanni e Terra Nuova. Inizieremo sabato mattina con il mercato della terra del Marzoc in Viale di Iaz dalle ore 8 alle ore 13 dove saranno allestiti oltre 30 banchi di produttori che proverranno da molte parti d'Italia. Dopo il mercato dalle ore 15 ci saranno i lavori, l'assemblea dei mercati della terra, della rete dei mercati della terra all'Accademia Valdarnese del Poggio che ci ospita per l'occasione. La sera sarà la volta della scena dell'augurio del Terra Madre dei. Il Terra Madre dei è la festa della rete di Terra Madre che lega un po' tutti gli angoli del mondo che fanno riferimento all'associazione Slow Food e lo faremo alla mensa comunale di Terra Nuova Bracciolini Domenica 13 dicembre è quando il mercato della terra e mercatale tornerà in piazza. E proprio in quest'ultima occasione domenica anche un premio speciale. Verrà istituito un premio a Gigi Frassanito che è uno dei fondatori di Slow Food, è stato scelto da Slow Food Italia, Slow Food Toscana e responsabile di Slow Food nel Valdarno, Montevarchi come sede per questo grande evento. L'evento si svilupperà anche con la presenza di 80 espositori, non solo italiani ma anche esteri, con più di un'ottantina di postazioni e gazebo che impegna Slow Food Italia, i mercati della terra e il mercatale.